In giro per Galomir troverai varie bottiglie della vita. Contengono la stessa magia che ti ha risvegliato dal tuo torpore, quindi possono farti tornare di nuovo dal regno dei morti. Usane una quando la tua energia è scarsa per sentirti subito meglio e riempile appena puoi. Grazie per la visione! Urra! Sapevo che ci sarebbe voluto più di un esercito di morti cattivi per fermarvi, capitano. Ho qui qualcosa che potrebbe aiutarvi nella vostra impresa. Ve la regalo, anche se non ho la più palida idea di che cosa sia. Grazie per la visione! 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 A presto. Sì, non è vero. Daniel, grazie a Dio, sei salvo. Ho un regalo per te, ma purtroppo non so se ti sarà utile. Grazie a tutti.